È ufficiale, dopo settimane d'attesa la decisione oggi del Consiglio federale. Il Lane è stato promosso in Serie B, con lui anche il Monza e la Regina. Un passaggio di categoria importante per la squadra che dopo anni di traversi era tornata a vincere sul campo. Una Serie B attesa dai tifosi che hanno sempre sostenuto i bianco-rossi anche in tempi difficili. Noi abbiamo sentito due tifosi molto particolari. Una bellissima notizia che aspettavamo da settimane ormai, il Vicenza in Serie B. Questa è la decisione del Consiglio federale. Faremo di tutto per far sì che ci faremo rispettare anche in Serie B come una società calcistica con una storia e una tradizione importante. Quindi forza Lane, avanti tutte! Quella del Lane in Serie B è una grande notizia, una grande notizia per la nostra città, una grande notizia per la provincia, ma soprattutto è una grande notizia per i tifosi. Una notizia che aspettavamo da tantissimo tempo. Sicuramente sarebbe stato meglio festeggiare in curva e sul campo questa promozione, ma una tifoseria e una società che si sono meritate pienamente questa promozione e siamo pronti per affrontare un campionato di Serie B che sicuramente sarà vincente e spero che veda Lane tra i protagonisti.